Presentazione ufficiale ad Imperia da parte di Union Camere del nuovo bando dedicato alle piccole e medie imprese. Lo strumento prevede agevolazioni per un totale di 20 milioni di euro stanziati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore allo sviluppo economico Renzo Gucinelli. Lo strumento su un investimento minimo di 100 mila euro prevede la concessione di agevolazioni alle imprese a valere su un fondo capitale di rischio. Un'operazione con cui la regione Liguria vuole migliorare l'efficienza del mercato dei capitali di rischio e favorirne lo sviluppo per le operazioni di start-up capital per le imprese che attualmente non generano ancora un profitto e di expansion capital per incentivare la crescita delle imprese già avviate. Dunque un'opportunità molto importante quella che viene presentata oggi qui ad Imperia in anteprima in Liguria perché poi ci saranno altri incontri. Insomma si parla di stanziamenti per le piccole e medie imprese. Sì indubbiamente Imperia è il primo appuntamento di quattro che svolgeremo nelle prossime settimane prima delle vacanze di Natale dove Filse insieme a Ligur Capita e con il sostegno importantissimo delle Camere di Commercio ha attivato una serie di attività di animazione economica per spiegare questa iniziativa. Oggi qui ad Imperia presentiamo il capitale di rischio che è uno dei tre filoni importanti di un'unica asse dei fondi europei che è l'ingegneria finanziaria. Ci sono 73 milioni complessivi da poter gestire per aiutare le piccole e medie imprese. Oggi questo bando che ha delle particolarità piuttosto complesse ma noi immaginiamo che con il supporto delle Camere di Commercio e dei nostri collaboratori riusciremo a rendere più facile l'utilizzo di questi fondi. Un'opportunità poi in questo momento difficile? Un'opportunità, un'occasione che io non mi lascerei scappare proprio per rafforzare il capitale sociale delle imprese che in particolare per le piccole e medie imprese Liguri è uno dei punti di debolezza delle imprese stesse. È risaputo che purtroppo le nostre imprese a tutti i livelli e in tutte le province soffrono di capitali investiti molto bassi rispetto alle loro potenzialità. E oggi credo che avere un capitale sociale forte invece serva proprio per crescere. Qual è l'importanza del rapporto che avete continuo di informazione con le aziende sul territorio? Sicuramente l'importanza è che vogliamo che questi strumenti siano sempre più conosciuti e gestiti in una maniera più semplice perché ci rendiamo conto che noi che gestiamo questi fondi probabilmente è pane quotidiano ma evidentemente invece va spiegato in maniera molto chiara, mi passi il termine elementare senza offendere nessuno la possibilità di accedere a risorse che altrimenti rimarrebbero non spese e sarebbe veramente un peccato per le nostre imprese. Allora parliamo di questo strumento, in cosa consiste? Consiste nell'apertura da parte degli imprenditori ad un intervento da parte di un soggetto istituzionale come Ligur Capital e un soggetto terzo indipendente rispetto agli imprenditori. Cosa vuol dire tecnicamente? Vuol dire strutturare un'operazione di aumento di capitale attraverso strumenti di equiti, semi-equiti o semplicemente come finanza per strutturare e programmare nella migliore maniera possibile quelle che sono le esigenze dell'impresa. Cosa vuol dire? Che Ligur Capital insieme al socio terzo e indipendente interviene con una percentuale in aumento di capitale non superiore al 49%. Le tecnicali dell'intervento sono, come spiegavo, abbastanza variabili con una particolarità, quella della way out che deve avvenire tra il quinto e il settimo anno. Sono 20 milioni in totale? Corretto, 20 milioni. Se consideriamo poi che la nostra misura si affianca alla raccolta di ulteriori 20 milioni da parte di co-investitori terzi e indipendenti vuol dire che se arriviamo a spendere, ad investire 20 milioni di euro nelle PMI Liguri abbiamo raccolto 20 milioni di euro, altrettanti 20 milioni di euro da parte di investitori terzi e indipendenti. Vuol dire che se arriviamo a questo obiettivo siamo riusciti a capitalizzare, a strutturare meglio le imprese Liguri per 40 milioni di euro. Sono investimenti minimi di 100 mila euro per piccola e media imprese? 100 mila euro, inteso come 100 mila euro l'intervento minimo di equiti, semi-equiti e finanza come Liguri Capital, quindi va raddoppiato l'intervento minimo tra Liguri Capital e i co-investitori di 200 mila euro. Dopo Imperia ci sono altre presentazioni? Ci sarà Savona lunedì, sempre nell'arco della settimana, ci sarà Genova, Camera di Commercio di Genova e Camera di Commercio di La Spezia. Marco Benedetti, dunque notizie importanti e non bisogna perdere questa occasione? No, assolutamente no, è una notizia importante, sono fondi consistenti per le piccole e medie imprese ed è anche una novità e si inquadra in un ambito di finanziamento alle imprese che non passa attraverso il canale bancario che sappiamo che in questo momento ha grandi difficoltà. Quindi è un intervento abbastanza complesso da spiegare molto bene, anche per questo come Camera di Commercio abbiamo stanziato dei fondi a cui le imprese potranno accedere proprio per fare la ristrutturazione del proprio capitale di rischio, della propria situazione finanziaria e presentarsi ragionevolmente in questo modo e quindi di poter fare questa operazione e si inquadra in un ambito di tutta una serie di altri interventi che come Camera di Commercio facciamo per gli investimenti sia in termini di garanzie sia in termini di abbattimento tassi più tradizionali su quali stiamo lavorando intensamente. E la realtà locale e economica è interessata ovviamente a questi strumenti? L'interesse c'è, c'è un po' di ritrosia ad affrontare uno strumento totalmente nuovo per il mercato italiano che sono gli equiti e sono gli interventi in fondo capitale e quindi c'è un po' di ritrosia. Bisogna appunto per questo abbiamo deciso di stanziare dei fondi per spiegare concretamente nella propria impresa, con la propria situazione, in modo da poter verificare se esistono le condizioni e se c'è l'interesse a fare questo tipo di investimenti. Però è un'occasione da non perdere assolutamente, sono troppi soldi disponibili che servono in questo momento assolutamente alle imprese e non bisogna farseli scappare. Presidente, è un incontro particolare rivolto alle piccole e medie imprese che possono usufruire di questo strumento importante? È uno strumento che, come è stato già spiegato dal vice direttore della FILSE, è uno strumento che si rivolge alle piccole e medie imprese che vogliono iniziare o intraprendere nuove attività, start-up nuove, iniziare delle strutture nuove e in cui la FILSE, attraverso ovviamente il bando che è già stato inserito nell'attività della FILSE stessa, finanziato dalla Regione Liguria, permetterà di poter accedere da 100 mila euro fino a investimenti fino a 2 milioni di euro e poter far sì che la FILSE diventi socia di queste società nuove che vengono costituite, di queste nuove imprese e possa quindi acquisire questa partecipazione che poi ovviamente deve essere restituita in un certo periodo al proprietario dell'iniziativa. Ma è rivolta soprattutto per metterli a coloro che vorranno intraprendere nuove attività e che queste attività vengano finanziate, quindi con dei tassi molto bassi e che siano competitivi rispetto a quelli delle banche. Questo permetterà a tante nuove iniziative, a tanti giovani e a tanti imprenditori di poter avviare, ci auguriamo, nuove iniziative che siano legate all'agroalimentare, al turismo, ma anche a nuove idee che possono essere sviluppate in un territorio come il nostro dove possono essere accolte anche nuove iniziative di campo pensate nel settore informatico o in tutto quel settore della nuova economia che qui possono essere sviluppate anche perché il nostro territorio è un territorio comunque appetibile, vicino alla Francia, è un luogo climaticamente interessante dove possono essere iniziate delle imprese che hanno queste caratteristiche legate sicuramente al nostro territorio ma anche di sviluppo di nuove idee e dobbiamo avere il coraggio di osare, dobbiamo dire ai imprenditori, mi auguro anche ai giovani, che abbiano il coraggio di osare in questo momento sicuramente difficile e complesso ma che per maggior motivo ha bisogno ancora di imprenditori fiduciosi nel futuro e anche con coraggio di imprese. Dopo questo primo seminario illustrativo del Bando ad Imperia seguiranno anche gli incontri di Savona, lunedì 2 dicembre, di Genova giovedì 5 e di La Spezia venerdì 6 dicembre. Grazie a tutti!